Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza, un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua, personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze, alta specializzazione degli operatori, professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria, tecnologia all'avanguardia, renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi! Bene, buonasera e benvenuti a Fuorigioco, una trasmissione dedicata al calcio direttantistico. Come al solito ho qui al mio fianco, il mio grande braccio destro, Federica, che saluto. Ciao Federica! Buonasera, buonasera! Abbiamo qui con noi il nostro esperto di calcio Federico Formisano. Buonasera Federico! Buonasera, anche se è un orario particolare stasera, ma comunque speriamo di ritrovare tanti amici, comunque anzi, magari qualcuno in più. Infatti straordinariamente questa sera andiamo in onda in orario tardo, proprio perché c'è stata prima tutti quanti i risultati politici. Quindi presentiamo il nostro ospite, abbiamo qui con noi il piacere di avere Mr. Paolo Cazzola, nonché Presidente dell'Associazione Allenatori. Buonasera a tutti! Buonasera Paolo, grazie a te di essere qui con noi. Bene, allora iniziamo con la prima domanda a te, approfittiamo della presenza tua e della tua esperienza Paolo. e ti chiediamo appunto quanto conta la formazione degli allenatori oggi giorno, soprattutto partendo dal fatto che rispetto a tanti anni fa, oggi i nostri ragazzi non hanno più il tempo di giocare a casa, stare con gli amici per la strada, giocare a pallone, ma sono tutti sempre solo seduti o davanti a un computer o davanti ai banchi di scuola. Premetto che quello che dico lo dico perché lo penso io e dalle esperienze che ho avuto personalmente, non voglio fare il maestrino, il professorino con gli altri. Ritengo che la preparazione dell'allenatore deve essere superiore agli anni, ogni anno che passa deve essere sempre più di livello più alto perché i problemi, la società è cambiata, i problemi che un allenatore si trova a dover risolvere sono problemi di carattere motorio, per la scarsa attività ginnica dei nostri ragazzi e poi devono essere anche di carattere psicologico perché bisogna sapere, oggi l'allenatore diventa anche un curatore dei rapporti fra genitori che sono sempre più invasivi rispetto agli anni nostri della nostra gioventù sull'attività sportiva e motoria dei ragazzi. C'è un'invasione di competenze e c'è poca voglia di affidare all'allenatore l'aspetto sportivo del ragazzo. Quindi questo significa creare altri motivi di contrasto, di problemi e l'allenatore quindi deve essere molto preparato a saper gestire questo tipo di situazioni, con argomentazioni ma soprattutto con molta serenità. La serenità te la dà quando sei preparato, se tu invece vieni colto in fallo o non sei all'altezza per affrontare certi problemi, ecco che la tua serenità viene meno e viene meno anche la qualità del tuo lavoro. Io vorrei farle una domanda, quante categorie di patentini ci sono nell'ambito federale? Beh, partiamo dalla UFA professionisti, all'interno del UFA poi c'è un'altra variazione, il UFA ti permette di allenare la serie C e la serie B, poi per allenare serie A e serie B e quindi Champions eccetera devi avere il UFA professionisti, poi c'è la UFA B che è quello che permette di allenare tutte le categorie di dilettanti, sia settore giovanile che prime squadre, fino alla serie D. e poi ci sono ancora dei patentini che andranno a sparire, cioè a sparire, andranno a morire perché non fanno parte del programma UEFA e sono l'allenatore dei giovani calciatori, l'allenatore dei dilettanti, dove hanno delle limitazioni anche alquanto strane perché possono fare le prime squadre, per esempio allenatore dei giovani dilettanti, può fare prime squadre e juniors provinciali eccetera, ma non può fare gli allievi, quindi sono delle straneze ancora residue della vecchia normativa che adesso un po' alla volta verrà cambiata perché entrerà sempre in vigore dal 2020 soprattutto la normativa UEFA. Adesso mi pare che però hanno iniziato anche a fare i corsi, io sono stato a Bassano con te una volta, per i portieri, per i preparatori dei portieri. Beh, ci sono due categorie che sono entrate adesso in maniera ufficiale e sono il preparatore dei portieri che prima era una figura non era riconosciuta e chi faceva il preparatore dei portieri e voleva farlo con una certa qualifica che gli desse anche certe garanzie, doveva fare UEFA B. Mentre adesso c'è proprio il patentino specifico preparatore dei portieri. E poi c'è un'altra associazione che è entrata nell'AIA, che è nell'associazione allenatori, ed è quella dei preparatori atletici. Ah sì. Che anche lì hanno cominciato a... adesso hanno una qualifica riconosciuta vera e propria e proprio a novembre di quest'anno è stato modificato lo statuto dell'associazione allenatori, per cui l'associazione preparatori atletici è stata inglobata nell'associazione allenatori. Tutto questo perché? Perché alla fine per essere nella governance del calcio, della FGC, eccetera, bisogna avere numeri, rappresentare dei numeri importanti. I preparatori atletici, proprio per figura e anche perché è un'associazione molto recente, non erano in grado di rappresentare dei grossi numeri e quindi hanno fatto una scelta, secondo me, strategica di entrare nell'AIA, la quale rappresenta già 88 mila tesserati. Però... Eh sì, quindi... Quindi sempre più formazione, sempre più patentini, sempre più specializzato. Sì, ma direi che io ho una mia moglie che per esempio lavora nel fitness, nello yoga, eccetera, e si vede proprio che in quel tipo di sport lì manca questo tipo di organizzazione e di riconoscimento, per cui tu fai un corso di due, di un weekend e poi metterti a insegnare. E invece i problemi che poi nascono, ma soprattutto le responsabilità, perché il mondo è cambiato. Una volta ti succedeva qualcosa e potevi combinare tutto con un bicchiere di vino e tarallucci, come si suol dire. Adesso si va dall'avvocato. È vero. E quindi l'allenatore deve essere una persona molto preparata, che sa quello che può fare e quello che non può fare, soprattutto quando si ha a che fare con dei minori. La responsabilità è doppia, certo. Ma quanto dura un corso per allenatori o anche per il preparatore atletico, come diceva prima? Beh, l'UFAB, adesso il preparatore atletico, ti direi una stupidaggine, non lo so. Però, a parte che ci vogliono dei titoli di studio proprio specifici, l'UFAB invece dura cinque settimane alternate, cioè una settimana sì e una settimana no. Quindi è abbastanza impegnativo, si fa dalle 17 alle 23, quindi cinque ore e mezza, eccetera. E in effetti è bene che sia impegnativo, perché significa che di tante cose qualcosa rimane, ma soprattutto crea una selezione, perché tanti problemi di lavoro professionali non riescono a farlo. Bene, molto bene, la ringraziamo per questo intervento. Vorrei chiedere ora a Federico se ci fa la carrellata su cosa è successo nei nostri campi questo weekend. Beh, ormai siamo arrivati quasi in fondo, partite ce ne sono state ben poche. I play-out sono finiti domenica scorsa, questa domenica ci sono stati ancora play-off e alcune finali. Per quanto riguarda i play-off, significativo, molto significativo il successo del Montebello, perché vincendo è entrata nelle prime quattro squadre. Ci sono tre posti a disposizione in prima categoria, che poi probabilmente si incrementeranno a causa di numerosi fusioni e qualche ritiro di qualche squadra. E quindi probabilmente il Montebello è già in promozione. insieme al Marola, che aveva già vinto il campionato, e al Bassano, che aveva vinto a sua volta nell'altro girone dove ci sono squadre vicendine. E tra l'altro ha vinto il titolo provinciale. E tra l'altro il Bassano, e qui abbiamo avuto come nostro ospite Francesco Maino, ha vinto il titolo regionale. La partita è stata giocata di venerdì sera a Montecchio, ha battuto una squadra veronese e è il secondo successo significativo del Bassano in questo campionato. In Coppa il Bassano è arrivato solo fino alla semifinale, ma comunque è stato molto vicino anche ad ottenere un successo. Sarebbe stato un triplete, come si diceva, in gergo. L'altra squadra di seconda categoria che hanno giocato i play-off, abbiamo avuto la soddisfazione del San Lazzaro che ha battuto il Lugo e che quindi è passato praticamente con quasi certezza in prima categoria. Perché certezza matematica? Perché nell'organigramma dei posti per l'anno prossimo ci sono sette posti e il San Lazzaro è entrato nelle otto ultime squadre, però ha una classifica tale che gli permette di essere sicuro del passaggio. Il Lugo che ha perso con il San Lazzaro finisce al tredicesimo posto. Devo dire che l'anno scorso sono state ripescate fino alla sedicesima squadra, quindi diciamo che anche il Lugo ha possibilità consistenti. La Stella Azzurra invece ha perso contro il Cavarzere e quindi a questo punto diciamo che la possibilità per la Stella Azzurra si riducono debolmente. Nelle finali bel successo del Rozzampia che ha battuto la squadra avversaria e adesso giocherà venerdì in un campo che si determinerà a giorni, il campo neutro, giocherà la finalissima. Le finalissime per i titoli regionali, l'ultima e quella di seconda categoria, si giocano sempre di venerdì sera. Vorrei interrompere un attimo, ci vediamo dopo una breve pausa. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua, personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. alta specializzazione degli operatori, professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi potrai navigare e parlare con internet superveloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800-194-000. La chiamata è gratuita. Ben tornati a Fuorigioco. Una trasmissione che come ricordo ha nella sua mission la promozione del calcio di elettantistico. Siamo sempre più carichi e pieni di energia visto che stiamo notando sempre più attenzione da parte di voi che siete a casa e questo ci fa enormemente piacere. Come sapete diamo spazio oltre che al calcio giocato. Parleremo anche di sport in salute. Proprio per questo motivo Federica qual è l'argomento che tratteremo proprio questa sera? Guarda oggi abbiamo un argomento che ti sta un sacco a cuore Franco. Parliamo dello stress da prestazione. Paolo cosa ci può dire al riguardo? Allora quello che posso dire è che quest'anno ho fatto un'esperienza personale nel settore giovanile di una società e la cosa che ho notato al di là poi delle informazioni che mi arrivano in quanto presidente dell'associazione che riguardano spessissimo gli esoneri nel settore giovanile il che è una cosa allarmante. La cosa che ho notato è che moltissimi degli allenatori del settore giovanile danno priorità assoluta al risultato e non ad altri valori. Su Facebook, sui social siamo tutti bravi a scrivere belle frasi, bei concetti, però poi quando si tratta di applicarli prevale la voglia di fare risultato e di vincere solamente. Ora penso, ed è una mia opinione, penso che chi fa settore giovanile deve mettere in cima alla lista delle sue priorità altri argomenti, non il risultato perché prima di tutto hai a che fare con dei minori, con delle persone che sono in crescita, con delle persone che sono in evoluzione e con le quali la tua preoccupazione prima dovrebbe essere riuscire a farli innamorare del calcio, perché l'attività sportiva a mio parere è l'unico argomento che può tenere lontani i ragazzi da altri pericoli. Questo deve essere il focus dell'allenatore, tenere i ragazzi lontani da altri pericoli ma soprattutto farli innamorare dello sport attivo. Perché? Perché alleniamo, come abbiamo detto anche prima, una società dei ragazzi che si muovono poco. Ma scusami Paolo, ma infatti questo problema qua è un problema che è legato molto anche a questi genitori che a casa però hanno un atteggiamento sbagliato. Il bisogno di un allenatore nel storio giovanile tante volte parte proprio dalle lamentele dei genitori. I genitori, i quali antepongono la formazione, il gioco, il mio figlio gioca o non gioca, invece il fatto che il figlio vada volentieri al campo a fare l'allenamento. Ti ripeto, tutti antepongono il risultato ad altri obiettivi e secondo me lo stress nasce dal fatto che l'allenatore che non è preparato e che non è convinto delle sue metodologie ma soprattutto degli obiettivi si fa carico di questo stress e antepone dei valori sbagliati. Bisogna che l'allenatore sia in grado di far capire ai genitori che l'importanza della classifica degli obiettivi non è determinata prima dal risultato della squadra ma è determinata direi dalla gioia con cui il ragazzo va a fare l'allenamento. Perché il problema è questo. Se un allenatore sa di avere una spada di Damocle sulla testa che potrebbe essere rappresentata dall'esonero anche a livello di settore giovanile, cosa fa? Fa giocare sempre e solo i migliori perché deve ottenere un determinato risultato e in questo modo sacrifica dei ragazzini che sono destinati magari spesso e volentieri a stare in panchina o a entrare negli ultimi minuti, il che anche questo non è giusto. Perché i ragazzi devono avere lo spazio per giocare, non si può pensare solo sempre a far giocare gli undici che ti danno sicuramente maggiori soddisfazioni. Il giorno d'oggi è più importante vincere o è più importante l'assoluto dei ragazzi? Se esonere un allenatore a livello di settore giovanile è evidente che è anche più importante per qualcuno vincere. È proprio questo che arriva allo stress, no? Sì, però dobbiamo parlare che non tutte le società hanno gli stessi obiettivi, non tutte sono uguali, ci sono società che fanno più un lavoro di socialità all'interno di una certa comunità, altre che invece perché mettono a disposizione risorse più importanti si pongono degli obiettivi diversi. Ora l'allenatore deve sempre cercare secondo me di fare la squadra migliore, perché? A suo giudizio, però mantenendo certi equilibri perché effettivamente ci sono anche dei ragazzi che si avvicinano al calcio perché è lo sport più popolare, perché è lo sport più facile, però non hanno ancora acquisito le basi per poter fare la competizione. Il calcio è l'unico sport dove ti fanno fare una competizione anche se ti mancano i fondamentali. Se tu vai a fare tennis o sci, prima di fare un torneo o di fare uno slalom devi avere la padronanza di tutti i fondamentali, invece nel calcio questo non avviene. Ecco che allora è difficile equilibrare questo. L'allenatore tornando al discorso dello stress deve essere una persona preparata ma convinto delle proprie idee e allora può superare la pressione dei genitori, della società eccetera. Ma soprattutto, come diceva Confucio, non deve aspettarsi dei riconoscimenti dagli altri ma i riconoscimenti li deve avere da se stesso. Quindi quando va a casa si guarda allo specchio e dice ho fatto il massimo che potevo, ho dato quello che dovevo dare come insegnante di calcio? Sì, allora trovi la tua gratificazione e diminuisci lo stress. Parlando di allenatori e parlando di un argomento che so che ti sta molto a cuore, l'abusivismo. Può un allenatore squalificato, Paolo, entrare nello spogliatoio? No, allora è una prassi, devo purtroppo dirlo, che facciamo tutti, che pensiamo che l'essere squalificato significa solamente non partecipare alla partita in panchina. Invece la squalifica, e questo è specifico nei regolamenti del settore tecnico, significa che tu non puoi fare la tua attività principale che è quella di allenare. Quindi per assurdo quando tu sei squalificato non potresti allenare durante la settimana. Chiaramente questo non è fattibile perché non tutte le società sono organizzate in maniera tale per cui se l'allenatore viene squalificato e gli viene proibito di andare al campo di allenamento lo può sostituire con un'altra persona. Quindi diciamo che durante la settimana che è l'attività principale dell'allenatore e qua ci sono state sentenze della Cassazione, sentenze anche di tribunali civili, non potrebbe fare attività sportiva. Però questo non avviene e viene anche tollerato. La cosa invece che gli allenatori devono capire è che per esempio durante la domenica, quando c'è la partita, non possono entrare negli spogliatoi e questo invece lo si fa e poi si esce quando arriva l'arbitro. Non potrebbe fare neanche l'allenamento di riscaldamento della partita. Certo. E qua vi devo dire che mi arrivano anche delle segnalazioni, adesso con i telefonini siamo vittima un po' a tutti dei video eccetera, mi arrivano i video dei allenatori che stanno conducendo l'allenamento pre partita pur essendo squalificati. Ecco, devono sapere che questo eventualmente se inizia un procedimento sei soggetto a ulteriori sezioni. È un altro problema che sto notando capita più spesso, è il fatto che un giocatore gioca in una squadra e poi si tessera e allena un'altra. Non si fa vedere come tesserato però poi allena. Ho assistito a squalifiche, a multe, sia a carico del presidente di una società che a carico del presidente dell'altra società e a chi si rendeva attore di queste violazioni. Ma l'articolo 41 del codice del settore tecnico parla molto chiaro. Tu non hai titolo di fare nessuna attività nemmeno temporanea o d'occasionale per la società per la quale non hai titolo per tesserarti. E quando è che io non ho titolo di tesserarmi per una società? Quando sono tesserato con un'altra. Quindi per la società per cui sono tesserato posso fare qualsiasi tipo di attività, posso anche che riguarda l'allenatore, perché se da allenatore voglio fare il dirigente devo chiedere la sospensione all'albo. Queste norme qua sono state fatte per evitare tutti quegli intralazzi che uno si tesserava come dirigente e poi in caso farle all'allenatore. Allora troppo bene. Quindi devono essere chiare. Vorrei ringraziarla per il suo contributo, per essere stato qui oggi. Ringraziamo anche Federico, una figura fondamentale per il nostro programma. Ringrazio Franco. Ci vediamo lunedì prossimo 17.30 sempre su TV A Vicenza. Buonanotte a tutti. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi.